Sorridico Martina, mi viene in mente lei, è un programma estremamente bello, seguito da una persona fantastica, ti sta dietro in tutto e io lo consiglio molto a tutti quanti, a me ha cambiato la vita averlo fatto con lei, io ero scettico perché avevo fatto una prima impresa con un dentista, non era andata bene, invece con lei mi sono trovato benissimo, è un anno che sono con lei e questo programma davvero è davvero consigliato a tutti. Grazie a tutti.